Amiche e amici tifosi pisani benvenuti o bentornati sul canale e in questo nuovo video come vi avevo promesso cerchiamo di fare un riassunto, un po' un ricapitolamento di quello che è successo in questo mese e mezzo di mercato del Pisa Vi rubo solamente un attimo per dirvi che se guardate sempre i miei video e non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, basta cliccare sul tasto qui sotto e attivate la campanellina per non perdervi più nessun mio video è completamente gratuito, per voi è solo un click ma per me fa tutta la differenza del mondo un enorme grazie a chi lo farà e ora torniamo ai nostri discorsi Il primo acquisto arrivato a Pisa è Andrea Primasso, un difensore giovane provenienza dalla serie D che comunque abbiamo già visto ad esempio anche contro l'Inter in amichevole, è un ragazzo che deve crescere in un reparto dove ci sono giocatori importanti come Caracciolo, Canestrelli, Calabresi, Giovanni Bonfanti nuovo acquisto in prestito secco dall'Atalanta per dare un certo valore al reparto difensivo nero-azzurro sicuramente un reparto che è ben collaudato con questi nuovi innesti sicuramente è uno dei reparti migliori della nostra squadra è arrivato anche un nuovo portiere, sarà il portiere titolare Adian Semper, 26 anni dal Como l'anno scorso ha avuto la promozione con Ilariani in Serie A un giocatore importante, l'abbiamo già visto in queste amichevoli ma anche nella partita di lunedì col Frosinone poco impegnato ma quel paio di volte che è dovuto intervenire lo ha fatto in maniera impeccabile Reparto portieri che si completa con Loria e Nicolas, ceduto un paio di giorni fa Livieri all'Ascoli che completa comunque un pacchetto portieri molto importante un centrocampo assolutamente rafforzato, tre acquisti in questo comparto Yevsenak il primo che era già in ritiro anche a Bormio mentre in questa settimana sono stati ufficializzati Medileris profilo di alto valore, un centrocampista votato un pochino più all'offensiva ma può anche giocare esterno di provata carriera anche in Serie A e in Serie B italiana ma anche con presenze all'estero e poi è arrivato il giovane danese Hoyolt posizione davanti alla difesa o comunque centrale di centrocampo che può dare una mano a Marin e a Piccinini che sono rimasti a Pisa insieme a Touret che componevano il centrocampo dello scorso anno e che si ripresentano con questi rinforzi sulle fasce un beruatto che sembra rinato almeno da queste prime apparizioni poi dovrà confermarlo con l'avvio del campionato e anche un altro acquisto sempre sulla fascia sinistra che può dare respiro a Beruatto è Samuel Angori proveniente dall'Empoli ha giocato nel Pontedera la scorsa stagione un giocatore che sa spingere ma che sa anche difendere quindi un reparto di centrocampo comprese i braccetti di destra e di sinistra a mio modo di vedere rinforzato rispetto allo scorso anno dovrebbe arrivare per completare il reparto centrale anche Abilgard sempre dal Como sarebbe un colpo importante per certificare la bontà del nostro centrocampo davanti il reparto meno ritoccato è arrivato soltanto Alexander Lind ufficializzato lunedì scorso danese ha giocato in Serie A in Danimarca è ovvio che i campionati esteri comunque sono diversi da quelli italiani anche se io dico una Serie A all'estero insomma più o meno si potrebbe equivalere con una seconda serie italiana ora non sopravvalutiamo il nostro campionato insomma ha un giocatore che ha tutto da dimostrare come tutti gli altri poi vedremo un attimo anche il discorso un pochino dell'esperienza e dell'età media di questa squadra che si è abbassata in modo notevole dicevo il reparto avanzato che ha confermato Bonfanti come centroavanti insieme all'Ind e poi ovviamente tutta quella schiera di esterni trequartisti che rendono il nostro attacco un attacco importante Tramoni, Arena, Moreo un pare ritrovato Emanuele Vignato quindi dobbiamo vedere dobbiamo capire un attimo anche come potranno rendere i giocatori dello scorso anno con una nuova strategia di gioco con una nuova e ritrovato entusiasmo portato da Mister Inzaghi che a mio parere è veramente l'uomo in più l'uomo forte di questa squadra di quest'anno che potrebbe farci fare veramente il salto di qualità e potrebbe fare la differenza in un campionato che lui conosce molto 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 bene come quello di Serie B rinforzati o peggiorati come ho letto da qualche parte secondo me mio giudizio personale la squadra si è rinforzata perché i profili giovani portano sempre una linea nuova e soprattutto Inzaghi è bravo a far crescere a far esprimere le migliori cose le migliori possibilità a tutti i calciatori nel reparto avanzato ovviamente mi sono dimenticato non giuro, non l'ho fatto apposta abbiamo anche Mlacar che deve dimostrare quello per cui è stato pagato lo scorso anno 3 milioni ricordiamolo un investimento importante che fino ad oggi non ha sicuramente reso per quello per cui l'abbiamo pagato ma sono convinto che quest'anno con un nuovo gioco possa entrarci veramente molto bene anche lui parlando un po' così di dati statistici di tutti gli acquisti fatti dal Pisa in questo mercato al momento solamente due hanno già calcato i campi di Serie B mi riferisco a Semper e a Leris tutto il resto hanno giocato all'estero o nelle serie minori compreso Giovanni Bonfanti che proviene sì dall'Atalanta ha esordito in Serie A ha esordito in Europa League con anche un gol però sostanzialmente la sua carriera l'ha passata in Serie C nell'Atalanta Under 23 e nel Ponte d'Era anche lui quindi sicuramente una squadra da capire da scoprire giornata dopo giornata con l'uscita tra virgolette con la messa da parte di Vari Torregrossa con la vendita di De Vitis con il ritiro di Masucci il non riscatto di D'Alessandro e Valoti il Pisa ha drasticamente calato l'età media se pensate che nella Rosa esclusi gli esuberi ci sono solamente tre giocatori che hanno più di 30 anni mi riferisco a un Nicolas a Caracciolo e a Moreo tutto il resto della Rosa è sotto i 30 è un segnale importante è un segnale che questa società vuole far passare cioè voler far crescere i propri calciatori perché a parte Giovanni Bonfanti tutto il resto è di proprietà del Pisa l'esperienza viene portata da Semper da Nicolas se dovesse rimanere da Caracciolo Carabresi e Beruatto da Marin da Moreo che hanno tutti più di 100 presenze in Serie B come minimo Moreo ce n'ha 227 ad esempio Carabresi 148 Marin 163 quindi giocatori di esperienza ce l'abbiamo giocatori giovani da far crescere ma che possono dare anche quel boost in più anche a livello atletico e di fisicità lì in mezzo al terreno di gioco quindi a mio avviso questa è una rosa che si può esprimere veramente in maniera importante ribadisco in panchina c'è un allenatore altrettanto importante quindi non non possiamo che poter essere fiduciosi per questa stagione non dobbiamo giudicare aprioristicamente i giocatori che non conosciamo perché appunto non li conosciamo e non possiamo giudicarli così senza neanche averli visti mezza volta in campo aspettiamo fiduciosi che questa stagione possa essere la stagione del rilancio dopo due stagioni obiettivamente non brillantissime quindi testa ora al campionato di serie B che comincerà fra poche ore subito partita delicatissima contro i Liguri dello Spezia quindi un derby subito alla prima così ce lo leviamo il dente immediatamente ma bisogna essere convinti tutti che questa squadra ci possa far veramente divertire e far godere fino a aprile maggio dell'anno prossimo e come sempre forza ragazzi forza Pisa grazie a tutti